Un rigore di Zampaglione consente all'Ocri di espugnare Bocale e di portare a casa tre punti importanti per la risalita della squadra Locrese, che domenica scorsa aveva perso in casa contro la Vigor Lamezia e che oggi si trova a scavalcare la diretta Bocale nelle zone di centro classifica, evitando di essere ricicchiati dalle zone bassissime della classifica. La squadra di Mister Scorrano riesce a vincere questa partita con un 2-1 che può essere davvero importante per il prosieguo della stagione. Era andato in vantaggio l'Ocri con il Dodoro, poi c'era stato il pareggio di Alderete per il Bocale, ma alla fine, come dicevamo, in apertura il rigore dei Bomber e Zampaglione consente di ottenere questi tre punti fondamentali per una classifica che cominciava a diventare deficitaria. Probabilmente da questo potrebbe ripartire la risalita per il Locri, che è magari un po' lontano dalle zone alte della classifica, quelle che possono significare play-off, invece quantomeno possono dare un po' di serenità e di tranquillità per la finale di questa stagione.